Grazie a tutti. Allora, lui è il Supreme Champion Coracane Pink Floyd di Precious Pose. Il mio allevamento si chiama Precious Pose e quindi lui è il mio primo maschio. Ha quattro anni, è un persiano color point e quindi è un persiano che si caratterizza per una particolare colorazione del pelo che si manifesta soltanto sulle zone fredde, quindi sulle orecchie, sulle zampette, sul muso e sulla coda. Mentre il resto del corpo rimane candido, cioè un mantello rimane bianco. Hanno la caratteristica di avere gli occhi particolarmente azzurri in tutte le variabili che vanno dall'azzurro al blu più intenso. Sono persiani, quindi sono gatti amabilissimi, sono i famosi gatti da divano. Proprio per questa ragione, quando è stata decisa di fare una campagna pubblicitaria, naturalmente grazie anche ai servigi del nostro divino divo, praticamente, abbiamo utilizzato un divano che sembrava un trono e quindi lui era comodamente, diciamo, adagiato su queste poltrone. E la campagna pubblicitaria, diciamo che tutto il lavoro si è svolto nell'arco di una giornata nel quale ci siamo tutti particolarmente divertiti in sua compagnia, perché tra l'altro si è prestato, lui si sente molto a suo agio davanti alle telecamere, quindi si presta molto. Abbiamo fatto decine e decine, se non centinaia di scatti per poi scegliere quelli che sono stati utilizzati per la campagna. Quindi mi pare di capire che lavorare con una star sul set fotografico sia stata un'esperienza che ripeterebbe volentieri. Certo, allora noi la ripetiamo praticamente quotidianamente a casa, perché naturalmente un persiano affinché possa essere presentato in condizioni, in belle condizioni, in buone condizioni a un giudice, deve essere quotidianamente curato. Quindi ha bisogno di essere toilettato ogni giorno, perché altrimenti non è che si presenta con il pelo in condizione, con gli occhi, senza le macchie e via dicendo. Quindi noi tutti i giorni ci divertiamo a casa. Naturalmente sul set è stata tutta un'altra cosa, perché c'era anche l'emozione dell'essere la sua mamma umana, e quindi un grande orgoglio per me. Immagino. Oggi è già stato giudicato? Lui non verrà giudicato, se non alla speciale color point, perché nell'ambito di questa manifestazione è stata organizzata la speciale color point di tutte le razze con essenza bianco. Per il resto lui è fuori concorso, in quanto ha concluso la sua carriera, è diventato campione supremo lo scorso gennaio in occasione dell'esposizione di Bologna, e quindi diciamo che abbiamo preferito rimanere fuori concorso e partecipare sull'ora speciale. Perfetto, quindi si gode la meritata pensione e le attenzioni dei paparazzi. Grazie, decisamente sì, grazie mille. Perfetto, in bocca al lupo e buona giornata. Grazie, ciao. Grazie.